Buongiorno a tutti, sono Renzo De Gabriele, odontoiatra, specialista in ortodonzia. Mi occupo di ancoraggio scheletrico da più di 15 anni e insieme ad Uniontech abbiamo messo a punto un nuovo sistema per l'inserimento delle viti palatali, che ci permette di avere una predecibilità di successo prossima al 100%. Il sistema è un sistema guidato mediante delle mascherine che a partire da una prima impronta ci permette non solo di avere da parte del laboratorio un posizionamento preciso delle microviti, ma anche la possibilità di costruire l'apparecchiatura. Il clinico quindi avrà in studio, insieme alla mascherina guida per l'inserimento delle microviti, l'apparecchiatura finale da cementare all'interno della bocca. È possibile con questo sistema realizzare tantissimi movimenti ortodontici, movimenti di intrusione, estrusione, di mesializzazione, di stalizzazione di un unico elemento dentario o di un intero gruppo, fino a un'intrusione dell'intera arcata con un'anterotazione della mandibola e una migliore proiezione del mento. Utile in diverse fasce di età, dai pazienti adolescenti, nei quali possiamo utilizzare questa sistematica per ancorare un espansore senza effetti indesiderati sugli elementi dentari, a pazienti adulti anche parzialmente dentoli con finalità pre-protesiche o multidisciplinari. Il sistema può essere utilizzato da parte di qualunque operatore e ha delle specifiche di poter essere utilizzato senza un particolare training, in quanto è assolutamente guidato e dà all'operatore un'assoluta certezza nel posizionamento delle viti e un'assoluta precisione, in quanto l'apparecchiatura viene costruita nella migliore posizione possibile, migliorando il seating e il fitting stesso dell'apparecchiatura. Grazie. Grazie. Grazie.